Ciao ragazzi sono Benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, oggi ragazzi siamo tornati qui con un nuovo post partita di Juventus Udinese finita per 3 a 1, sono appena tornato dallo stadio, ho voluto appunto registrarvi questo video diciamo tra virgolette a caldo dove vi davo le mie impressioni su questa partita che abbiamo giocato davvero davvero molto bene a mio avviso però ragazzi prima di iniziare col video mi raccomando vi invito ad andare a scaricare la migliore applicazione sul mondo del calcio ovvero OneFootball trovate il link qua sotto in descrizione mi raccomando andate e scaricate la perché vi permetterà davvero di rimanere sintonizzati 24 ore su 24 sulla Juve e sul calcio quindi passando alla partita, una partita che abbiamo giocato davvero davvero molto bene, io contro Lazio avevo detto bisogna cambiare bisogna cambiare mentalità e sia contro Bayer Leverkusen che nuovamente oggi in campionato abbiamo finalmente dato la dimostrazione di una grande squadra anche se comunque abbiamo giocato contro il Bayer Leverkusen che non era il top e oggi contro l'Udinese che non era una squadra chissà quanto forte abbiamo comunque fatto una grandissima, grandissima partita soprattutto un grandissimo primo tempo con finalmente il tridente di Balai e Wayne, Ronaldo che appunto Maurizio Sarra ha deciso di schierare per la prima volta da titolari hanno giocato davvero molto bene, si sono trovati molto molto bene, hanno creato delle belle verticalizzazioni e scambi fra di loro sebbene secondo me potevano fare meglio, soprattutto in fase offensiva nei contropieni alcune volte sembrava che i tre non fossero chissà quanto uniti, attaccavano in maniera non totalmente collettiva magari uno era un po' da una parte, l'altro era un po' dall'altra, però comunque si può sicuramente migliorare le azioni che hanno creato sono state comunque davvero molto belle, interessanti e ci hanno fatto divertire ed è per questo che infatti nel primo tempo, secondo che abbiamo giocato anche con Boyle e con Grinta siamo andati subito sul 3-0 con una doppietta di Ronaldo, su tra l'altro un bellissimo assist di Wayne che non stava facendo chissà quanto bene nella fase proprio finale delle azioni stava sbagliando un bel po' di passaggi magari che potevano essere utili a Di Bale e Ronaldo per andare al tiro però comunque ha servito un grandissimo assist, finalmente un'altra doppietta di Ronaldo che ha sfiorato tra l'altro la tripletta poi nel secondo tempo ma quello che io volevo finalmente farvi notare è che abbiamo fatto una grandissima partita in fase difensiva perché mamma mia, mamma mia ragazzi De Miral, ma con che voglia gioca questo ragazzo del 98? questo ragazzo è un ragazzo che sta giocando davvero con una grinta assurda va su tutti i palloni e non molla un secondo, davvero complimenti a De Miral speriamo che possa continuare in questo modo perché è davvero un ragazzo che può solamente crescere e che se solo si aggiustasse un pelo sulla sfrontatezza, sulla aggressività in alcune occasioni potrebbe essere un po' più, tra virgolette, pacato comunque ragionare un po' di più, quindi avere un po' più di esperienza perché alla fine l'esperienza la si crea giocando può diventare davvero un grandissimo difensore centrale per il futuro della Juve quindi davvero complimenti a De Miral che ha giocato benissimo così come anche Bonucci che a parte il gol ha fatto davvero degli ottimi interventi anche in fase difensiva che ha salvato la Juve da alcune occasioni davvero molto belle per l'Udinese che potevano fargli riaprire la partita soprattutto nel secondo tempo perché nel primo tempo è vero abbiamo più giocato in fase offensiva che non dovuto difendere però comunque è andata davvero molto bene sono davvero davvero contento di questa partita fatemi sapere anche voi qua sotto ovviamente con un commento cosa ne pensate di questa partita i due terzini da Sciglio e Danilo non mi hanno fatto impazzire però comunque hanno fatto la loro partita non sono stati chissà quanto propositivi in fase offensiva sebbene comunque De Sciglio secondo me abbia giocato meglio di come ha giocato per dire Alexandro nelle ultime partite perché è stato a mio avviso più pulito, più tranquillo, più pacato va bene, aveva di fronte non la Lazio, aveva l'Udinese però comunque ha dimostrato di essere un terzino che può rivelarsi davvero utile a mio avviso Danilo, anche lui, non ha sbagliato niente per carità però comunque non era chissà quanto incisivo bellissima, bellissima invece la partita diventa Curre che sta ormai diventando un grandissimo centrocampisto di passo, di corsa sia in fase offensiva che in fase appunto di possesso palla quindi negli scambi corti, nei lanci lunghi davvero un grandissimo centrocampista che lo vedo sempre più ormai titolare nel centrocampio della Juve con Sarri Matthew D e Rabiot hanno fatto una partita un po' così mediocre Rabiot mi è piaciuto molto di più rispetto alle altre volte perché comunque aveva molta più voglia di fare una bella prestazione ha sbagliato anche lui, vabbè, tanti passaggi come al suo solito però vabbè, pazienza, sono davvero davvero molto contento detto questo ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto lasciate un mi piace e appunto niente andatemi a seguire su Instagram qua sotto trovate il link ovviamente di OneFootball e del mio Instagram quindi mi raccomando, seguitemi tutti qua sotto per rimanere anche sintonizzati su alcune cavolate che metto io magari quando vado allo stadio o in generale per alcune informazioni in più detto questo, niente, qui da Bembe è tutto noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video che sarà, non lo so se è la reaction appunto alla partita di mercoledì all'infrasettimanale però comunque può essere detto questo, qui da Bembe è tutto noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video bella